Poche ore inizierà il festival di Sanremo, il 65esimo festival della canzone italiana, mancano veramente poche ore all'inizio, come vediamo ci sono già tante persone in attesa dei cantanti che ultimeranno le loro prove proprio nella giornata. Il famoso red carpet di Sanremo dove ieri sera c'è stata la sfilata dei cantanti, un'assoluta novità quest'anno, una sfilata dei cantanti che non ha visto però protagonisti i conduttori del festival. Come vediamo la gente già aspetta, praticamente siamo a mezzogiorno, quindi aspetta già dalle 12 i cantanti, visto che ci dovrebbero essere le ultime prove, dovrebbero iniziare alle 2, quando i cantanti in teoria passeranno da qui per entrare e per salutare soprattutto il pubblico.